Il test di Cogins, la prima analisi viene effettuata al laboratorio di Arezzo, che verifica soltanto la negatività delle analisi. Nel caso di dubbia e negatività il test viene mandato a Roma, dove c'è un centro specializzato che fa un'analisi più approfondita. Da questo secondo test è venuto fuori che il cavallo era positivo e abbiamo mandato fuori a quel punto un comunicato stampa, nel quale il quartiere si rimetteva alle prescrizioni che ci venivano dettate dall'ASL. Anemia infettiva. Questa la tegola caduta sulla testa del quartiere di Porta Santo Spirito. La malattia è stata individuata per uno dei 19 cavalli della scuderia della Colombina ed è scattata la quarantena di conseguenza per tutti gli altri animali, risultati comunque negativi al test. Per almeno 90 giorni c'è il blocco anche del campo di allenamento. Insomma, una giostra del Saracino, anzi tutte e tre, quelle del 2016, compromesse. Non si può improvvisare una giostra in sette giorni, perché la nostra manifestazione è una manifestazione anomala. Non è che si va a correre in un ipodromo, non è che si va a fare una gara di salto ostacoli. La nostra manifestazione si svolge, la sua più grande caratteristica è quella che si svolge in una piazza con 5.000 persone, con bandiere, tamburi, pubblico, insomma, che devo dire anche la sua caratteristica è quella di arrecare dei disturbi ai giostratori. I cavalli che vanno in piazza, essendo animali, hanno anche delle reazioni, anche improvvise e impreviste. L'obiettivo di un dirigente, prima di tutto, è quello di coprire anche la giostra del Saracino, però prima di tutto di pensare all'incolumità dei propri atleti, dei propri ragazzi. Oltre quello, bisogna pensare anche all'incolumità dei figuranti che sono ai piedi della lizza e al benessere del cavallo, perché possono succedere tante cose. E in sette giorni un binomio per correre giostra non si può inventare. La normativa parla chiaro, ma il rettore di Porta Santo Spirito non si arrende e dopo un primo annuncio shock, dove aveva detto che il quartiere sarebbe sceso in piazza grande solo con i figuranti, adesso spera nella possibilità di una deroga da parte del ministero competente. La speranza ad oggi è quella di poter accedere a questa deroga e devo dire, devo ringraziare anche l'amministrazione comunale che si è presa a cuore questa cosa. Io sono stato ieri ricevuto dal vice sindaco di Arezzo, il dottor Gianfrancesco Gamurrini, che è anche assessore alla giostra del Saracino. Dopodiché ci saranno degli ulteriori incontri che si dovrebbero svolgere lunedì, però la decisione ultima è rimandata tutta al ministero. E noi siamo in attesa di avere una risposta. Se si arriva in maniera positiva, noi andremo in piazza con i nostri cavalli, anche se, puoi ben vedere, noi abbiamo lavorato su questa struttura che è il nostro fiore all'occhiello e oltre a non avere la possibilità di avere i cavalli di proprietà, i cavalli delle scuderie, non possiamo utilizzare neanche le nostre scuderie perché nel caso in cui dovesse entrare un cavallo, anche il cavallo è sottoposto alle stesse prescrizioni di quelli che sono qui dentro. Siamo presi su tutti e due i fronti. Non abbiamo posti dove allenarci, dobbiamo trovare cavalli e non è facile a sette giorni trovare un cavallo che possa correre giostra. Ma ribadisco, la mia più grande preoccupazione è quella di andare in piazza a correre giostra in sicurezza, non tanto per vincere o per perdere, in sicurezza, prima di tutto in sicurezza per i ragazzi e per non andare in piazza e creare un evento, un episodio che possa andare, allora sì, a mettere in cattiva luce la manifestazione dove se succedere qualcosa di eclatante, insomma, che magari si fa male il cavaliere, il cavallo oppure uno dei figuranti che sono in piazza. Una giostra a tre non è mai successa e poi sarebbe, insomma, onestamente inguardabile. Io questo che lo capisco, però io purtroppo da dirigente ho degli obblighi morali, insomma, da rispettare e da mantenere. Io mi dispiace per la manifestazione, però credo che l'obbligatorietà di andarla a coprirla in condizioni non ottimali, non in sicurezza, sia peggiore che non fare una giostra a tre.